direi che la partita di ieri sera con Napoli in Champions League a Barcellona non è andata come doveva andare come risultato questo sicuro è un peccato perché Napoli ha giocato molto bene dopo i primi due gol del Barcellona Napoli ha reagito in maniera vehemente accorciando Rachmani anche in maniera meritata secondo me il Napoli ieri ha fatto girare bene la palla ha mosso bene la palla ha giocato comunque una partita alla pari contro un Barcellona di altissimo 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 livello purtroppo il 3-1 di Lewandowski ha tagliato un po' le gambe ai partenopei che poi hanno preso anche una traversa con Oliveira che poteva portare al 3-2 e magari riaprire la partita ma credo in questo momento che il Napoli sia inferiore al Barcellona ma devo dire che a livello di gioco non ha sfigurato, non ha demeritato, ha dato tanto e ha dimostrato di potersela giocare. La delusione è che per il mondiale per club dell'anno prossimo che sarà 32 squadre il Napoli sarà fuori e sarà la Juve a raggiungere l'Inter per partecipare al mondiale per club la nuova formula 32 squadre. Peccato per il partenopei, stasera si va avanti con la Champions, con l'Inter vediamo di portare almeno una squadra nei quarti